a regime da coche eccolo e va via schietta unio uzzierese dietro a lui ancora schietta avanti con carboni è questa navallina c'è proprio il passo piazza di oro non sarà un fenomeno però vedete anche un uzzierese va molto bene sottilesio è da vedere io lo sta provando seriamente prendilo prendi Enrico perché sta provando il sottilesio forte vediamo come se la cava a questa curva schietta benissimo bene anche il sottilesio unio uzzierese pure la grigia la fanno bene difficile trovare cavalli che sbagliano questo sottilesio era un po un po più grande invece adesso sembra che sia venuto avanti e a forza di lavorare viene avanti si schietta non ha nessun tipo di problema cavallo ancora non c'è una meccanica importante sottilesio quindi proprio girare a dove passano gli altri è difficile vedercelo un po proprio la dinamica di azione vediamo questa se non resa cavallina che va bene vedete anche questa trovare cavalli ripeto sono tutti cavalli dressati c'è poco da preoccuparsi proprio ci può essere qualche l'uno e deve solamente rescele come addestramento come esperienza ma però la maggior parte vanno bene ok e abbiamo finito mentre sta ancora galoppando quarsus una natura blanda il classico canterino allora io vi saluto